Abbiamo messo in servizio altre 7-8 unità, ma quando ne mancano sistematicamente 10, 11, 9, 8, costantemente, e sostituire quelle che già sono assente. Per cui questa forza lavoro non è mai basteva, non è sufficiente. Quindi che siamo arrivati al punto di dire basta. Ieri ne ho parlato aspamente, ho fatto scrivere più e più volte costantemente, ho fatto fare verbale, tutto quello che è in itene del contratto. Ma ora basta. I commissari e i prefettizi insieme all'amministratore devono accettare la realtà che se c'è gente che non vuole lavorare li mandano a casa. E deve esserci la forza lavoro costante riposta da 28 unità. E nei periodi estivi, così come siamo rimasti da contratto e da accordi, deve esserci il turno pomeridiano e qualche unità in più per la servatura. Grazie a tutti.